E benvenuti ragazzi in questo nuovo video E' imbarazzante Noi siamo i Brothers Players e oggi siamo in un video mai visto su Youtube Italia Spiega Che non ci farà fare fissua come assolto Ma se non fa qualcun altro si Noi siamo ottimisti ragazzi Che fastidio parlare così Sembra una cosa molto porno ma non è così Ma ci siamo in un video abbastanza particolare Si tratta della prova a non spaventarti challenge In ASMR RMR Amarro marrone Quindi non sappiamo che cazzo uscirà da questo video Ma lo vedrete lo stesso perché non abbiamo tempo per registrare altri video Ora facciamo partire il video Che cazzo era? Ok è cominciato il video Si non si sente mai Dove è pezzarissima Perché si blocca porca puttana il wifi Il mio wifi oggi non va Comunque abbiamo anche creato l'atmosfera adatta L'atmosfera è pasta Basta con sta battuta di merda Basta Andiamo avanti Quanto è finta questa registrazione? Che cazzo era? Quanto è finta questa telecamera? Cos'era quella saga? Porca puttana Cioè i bifidi Porca puttana Porca puttana Minkio l'ombra Vi sta piacendo questo video? Mettete mi piace Porca puttana Questi video A parer mio sono falsi Chi è che va in un bosco Con una telecamera A guardarsi in giro Non sto vedendo un cazzo Non sto vedendo un cazzo Io ho visto un uomo Quasi Bellissimo Che figata Porca puttana Io come cazzo Che steri lì a filmare Porca puttana Anche io Ho la pelle d'oca Perché quella di Anadra Non mi piace A me non mi sta Eh direi Sembra che non muo Che cazzo Ma va fa culo Ma dio Cazzo C'è un po' Creepy foto Porca Fra Mi sono cazzo Tosti Microfono Questo sono io la mattina Perché sono quali Che fanno più cagare addosso Che cazzo ride Fa più paura l'intro Ma che cazzo Ma che cazzata Guarda che bello No Guarda 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 quanto è lungo Questo Ah questo è vecchissimo Questo mi ha traumatizzato Questo è vecchissimo Ragazzi io a 5 anni Ho subito questo trauma Io sono ancora traumatizzato Per questa cosa Questo è bello Dai questo Sembra fatto Porco Ti Secondo me Cazzo è un gatto Non penso Giustamente Chico Non è un gatto Prima a giocare forte Mi cago più addosso Sicuro O oggi è seco O oggi è seco Soprattutto Sei proprio Non ridere challenge Con i video Vediamo che questo video Vi sia piaciuto lo stesso Io penso di no Ricordiamo di lasciare Mi piace Di condividere In descrizione Ci sono tutti i nostri Solo Già le playlist Consigliate da noi E alla prossima E alla prossima